Noi ovviamente ci saremo il 17. Io dico e ho sostenuto che questo provvedimento non tiene conto di una cosa, noi lo crediamo da tanto tempo, la sostenibilità ambientale deve essere coniugata con quella sociale e con quella economica. Qui praticamente non incide su nessuno di questi tre fattori, non incide su quella ambientale, si sposta semplicemente il problema dal continente europeo a quello africano, perché come sappiamo lì la carbon tax nei porti del Nord Africa non si applica, quindi non interviene né sulla salvaguardia ambientale né sulla riduzione delle emissioni, non interviene ma anzi mette a rischio 1.600 posti di lavoro diretti e 4.000 dell'indotto, che è una vera bomba sociale che si potrebbe verificare nell'area di Gioia Tauro e inoltre mette a rischio tutta una serie di condizioni di sviluppo economico. Allora, l'intituto è un'infrastruttura per il Paese, per l'Europa e per la nostra regione nell'area del Mediterraneo, una di quelle che sono in assoluto più strategiche, lo stiamo vedendo in questo momento, potrebbe diventare Gioia Tauro un grande hub energetico, noi ricordiamo la nostra battaglia per quanto riguarda il ricassificatore che sta ritornando di grandissima attualità, nonché anche un grande snodo commerciale e industriale nell'area retroportuale e quindi andrebbe a vinificare tutto ciò che sono le opportunità che si andranno a verificare con le ZES. Attenzione, perché noi abbiamo avuto e abbiamo centinaia di milioni di euro che il gruppo Aponte sta sviluppando in quel territorio e che potrebbero asportarsi in Nord Africa e un terzo elemento, secondo me importantissimo, che va sottolineato, diventa una grande infrastruttura della logistica avanzata per uno sistema produttivo. Ricordo che i dati statistici ci hanno dimostrato grande vivacità da parte del sistema produttivo Calabrese sui temi dell'export e dell'internazionalizzazione. È un provvedimento, una direttiva che va assolutamente naturalizzata nella fase di attuazione per poi essere cambiata mettendo insieme e in equilibrio ragione dell'economia, ragione sociali e ragione ovviamente ambientali.